Il progetto Scuole Sicure, messo a punto al Viminale, continua a dare i suoi frutti. Significativo il bilancio in Irpinia, dove i carabinieri a pochi giorni all'inizio dell'anno scolastico hanno tratto in arresto un altro studente sorpreso in possesso di sostanza stupefacente. Nell'ambito di tali servizi, presso un istituto scolastico di Lioni, coadiuvati dal personale non indivisa la compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, nonché dai colleghi del nucleo cinofili di Sarno, dove aver osservato se ci fossero strani movimenti fuori dalla scuola, nel tentativo quindi di bloccare in flagranza eventuali attività di spaccio, hanno atteso che i ragazzi entrassero nelle aule e quindi, durante il regolare svolgimento dell'attività didattica, hanno iniziato i controlli guidati dall'infallibile fiuto del cane Zidane. Il pastore tedesco ha puntato uno studente seduto al banco che alla vista dell'animale ha subito manifestato un inspiegabile nervosismo. Ha ragione perché l'infallibile fiuto del cane antidroga ha indicato ai carabinieri la tasca dei pantaloni da lui indossati. Colto in flagranza, il giovane ha estratto una bustina con all'interno una modica quantità di marijuana e un grinder. Identificato in un quindicene del luogo, il ragazzo è stato condotto poi in caserma. Grazie all'indagine immediatamente avviata e particolarmente incisiva, i militari operanti hanno individuato anche il luogo dove lo stesso ragazzo custodiva circa mezzo etto di analoga sostanza superfacente, sottoposto a sequestro unitamente ad un bilancino elettronico. Alla luce dei gravi indizi di colpevolezza, il minore è stato tratto in arresto in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze superfacenti e su disposizione da procure la Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, tradotto presso un'idonea struttura, partenopea.